Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume esercizi di macchine elettriche. Temi di elettrotecnica dettagli altamente svolti. L'autore Daniele Vetrucci, l'editore è Libri Sandit. Il costo del volume è di 11,90 euro. E' l'elenco dei temi ministeriali dal 1970 al 2015. Tutti svolti con risultati, formule utili ed esercizi. Buona visione e vi aspettiamo per il nostro prossimo video. Grazie. Grazie.